La propria città, la città in cui si è nati, conserva un sacco dei segreti della felicità, un'arte, tra virgolette, sapienziale della felicità, cioè di qualcosa che si comunica di persona in persona, si può traghettare di padre in figlio e generazione in generazione. Iniziative pubbliche per sostenere le energie dei giovani. Il secondo convegno nazionale delle politiche giovanili il 18 e il 19 dicembre a Castel dell'Ovo mette a confronto le scelte di otto diverse città italiane per creare opportunità anche lavorative in favore dei giovani. Come amministrazione abbiamo recuperato dei fondi importanti, erano fondi ministeriali del 2011 stanziati dal governo, 520 mila euro per la nostra città in vista della nascita della città metropolitana destinate a politiche giovanili. Oggi stiamo raccontando come, attraverso bandi pubblici e quindi la piena trasparenza, queste risorse pubbliche hanno dato vita a progetti fatti realmente dai giovani e pensati da loro stessi, che hanno dato vita non soltanto a tantissimi elementi e attività culturali legate al cinema, al teatro, l'arte, ma soprattutto il lavoro. E se la giornalista Giulia Innocenzi, intervenuta con un videomessaggio, esorta a un patto generazionale che affranchì il mondo del lavoro da nepotismi, clientele e corruzione, l'assessora ai giovani del comune di Napoli pensa ad un'azione pubblica che vada oltre la logica del contributo occasionale e che promuova impresa giovanile sostenibile. Una misura, 200 mila euro, si chiama Sviluppo Napoli e oggi stiamo raccontando le dieci attività imprenditoriali che ci auguriamo fra cinque anni di trovare ancora aperte nella nostra città. Premiata nel corso del convegno, la giovane equip dell'arte della felicità, il film di Alessandro Rack, recentemente insignito dello European Film Award come migliore opera europea d'animazione. Straordinaria questa squadra, Alessandro Rack, Luciano Stella e l'Oscar d'Europa a Napoli. Loro sono bravi, sono ragazzi radicati nel nostro territorio, che amano Napoli e che hanno donato un successo così straordinario alla nostra città che è ritornata negli ultimi tempi a essere tra le città protagoniste nel mondo, di questo siamo profondamente orgogliosi. Nella seconda giornata si parlerà di cultura, creatività, ricerca e innovazione, ma anche di legalità e di diritti.